Intervistato da Behind the Gloves, il pugile Tyson Fury ha rivelato che c'erano grandi progetti relativi al suo coinvolgimento con la WWE, che poi sono stati accantonati a causa dell'epidemia di Covid. Fury ha infatti detto che lo scorso anno avrebbe dovuto presenziare e probabilmente combattere alla Royal Rumble, a WrestleMania e a SummerSlam e che era addirittura in programma un match contro Drew McIntyre in un evento speciale in pay per view da svolgersi nel Regno Unito. E se avete buona memoria vi ricorderete che per un bel po' Fury e McIntyre si sono provocati sui social e probabilmente lo hanno fatto sino a che l'opzione di una loro futura battaglia è rimasta in piedi. Stando a Tyson il Covid gli avrebbe tolto anche due match di pugilato di cartello, oltre alla possibilità di incontrare il presidente degli Stati Uniti, allora Donald Trump, e il Papa a Roma, con l'epidemia che ha praticamente azzerato le sue attività sportive.